Iniziamo con l'oggetto numero 1, atto 1328, interno dalla consigliera Puletti, stato di attuazione della deliberazione dell'Assemblea Legislativa 236-2022 in merito alle procedure tese a consentire il ripopolamento dei bacini idrici Umbri e alla verifica di tutte le possibilità per l'utilizzo delle trote allevate presso il centro itteogenico di Borgo Cerreto. L'assessore Morroni interroga la consigliera Puletti. Prego consigliera Puletti. Grazie Presidente. Il dispositivo di questa mia mozione, Assessore, è molto semplice. Ricordo infatti all'Assemblea Legislativa e ai nostri cittadini che il 5 aprile scorso, proprio in quest'Aula, è stata approvata la mozione che mi ha visto come prima firmataria e che riguarda l'impegno del suo Assessorato, Assessore, per l'avvio alle procedure di immissione delle trote allevate presso il centro itteogenico di Borgo Cerreto, nei bacini e nei corsi d'acqua, chiaramente nel rispetto delle normative vigenti. La stessa mozione impegnava il suo Assessorato a verificare anche tutte le possibilità per il ripopolamento dei fiumi, utilizzando quelle che erano le trote di Borgo Cerreto e che, ricordo, il mantenimento è a carico della regione stessa. La stagione della pesta trasportiva, Assessore, iniziata da diverse settimane, e l'Umbria, dati alla mano, sembra rimasta un po' indietro. Quindi le chiedo di sapere qual è lo stato di attuazione della deliberazione numero 236 del 2022, in merito alle procedure tese a consentire il ripopolamento dei bacini idrici Umbri, per assicurare a pescatori e a tutto il mondo che vi ruota attorno una stagione dignitosa, come del resto meritano. Grazie. Grazie, consigliera Puletti. Prego la risposta all'assessore Morroni. Sì, grazie, Presidente. La deliberazione dell'Assemblea legislativa, la numero 236 del 2022, è formalmente pervenuta all'assessorato con PEC, protocollo numero 92955, in data 20 aprile, naturalmente del corrente anno. Tale deliberazione impegna la Giunta regionale nel rispetto delle normative vigenti, a proseguire le procedure tese a consentire il ripopolamento dei bacini idrici Umbri e a verificare tutte le possibilità per l'utilizzo delle trote allevate presso il centro etiogenico di Borgo Cereto. Sulla questione dei ripopolamenti, il Ministero della Transizione Ecologica, con propria nota a protocollo 45495 del 13 aprile 2022, ha comunicato a tutte le regioni e alle province autonome, anche alla luce di alcune delibere regionali, che rimane confermato quanto già espresso con la nota del 28 febbraio 2022, cioè che per effettuare l'immissione di specie ittiche non autoctone, è necessario procedere con la preventiva richiesta di autorizzazione in deroga al Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dei comi 4 e 5 dell'articolo 12 del DPR 357 del 1997. Ciò nonostante quanto previsto dalla legge di bilancio 2022, la legge 234 del 30 dicembre 2021 e dagli emendamenti introdotti al decreto 1000 proroghe in sede di conversione in legge. Facendo seguito a quanto comunicato in sede di commissione consultiva per la pesca sportiva che si è tenuta il 12 aprile di quest'anno, in data 15 aprile e 20 aprile, sono stati immessi nel fiume Nera e nel fiume Corno 120 mila avannotti e 150 kg di individui adulti di trota mediterranea autoctona, allevati presso il centro etiogenico di Borgo Cerreto, dando seguito alle attività di conservazione della specie. Per quanto riguarda il ripopolamento di bacini idrici umbri per l'attività di pesca sportiva e agonistica, la Regione, come già fatto presente anche in precedenti momenti di confronto in seno all'Assemblea, ha presentato il 29 dicembre 2021 richiesta di dergo al Ministero della Transizione Ecologica sulla base di uno studio di rischio per l'immissione nel reticolo idrografico regionale di troti iridei sterili e di trote fari e di troti iridei non sterili nei laghietti di pesca sportiva. tale scelta, come specificato nella delibera della Giunta regionale, la 1.284 del 16 dicembre 2021, è stata effettuata sulla scia dell'esperienza di altre Regioni, alla quale il Ministero e in particolare la Regione Marche, alla quale il Ministero aveva respinto la richiesta di utilizzo di trote fario per il reticolo idrografico regionale, autorizzando esclusivamente l'utilizzo di troti iridei sterili. Il Mite, in data 28 marzo 2022, ha inviato la deliberazione numero 151 del 15 febbraio 2022 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, su parere di Ispra, dal quale risulta che la deroga è ritenuta ammissibile, seppur necessiti di alcune integrazioni sulle quali la sezione tutela patrimonio ittico e pesca sportiva della regione è impegnata per un loro cedere e accurata definizione. Nella sopra menzionata deliberazione del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, viene ribadito che la trota fario risulta all'ottona per la regione Umbria. Per questo motivo le trote atlantiche allevate presso il centro etogenico di Borgo Cerreto non possono essere al momento utilizzate per i ripopolamenti dei corpi idrici naturali e pertanto si stanno attivando le procedure anche per la vendita. In conclusione si sottolinea ancora una volta che, riconoscendo il valore sociale ed economico della pesca sportiva, si è impegnati per trovare e percorrere tutte le soluzioni possibili per far fronte alle criticità che sono sopraggiunte nell'ultimo periodo. Grazie Presidente. La replica? Prego, prego Consiglio Apuletti. Grazie Presidente, grazie anche Assessore per la sua risposta sicuramente dettagliata e puntuale. La nota del Mite che lei ha fatto riferimento nel suo intervento, ce l'ho qui, come lei ha detto è datata 13 aprile 2022 ed è stata inviata a tutte le regioni d'Italia e alle province autonome. Tra l'altro questa nota non dice né più né meno di quella che era la nota diffusa qualche settimana fa qualche settimana prima. È altrettanto vero che in più di un'occasione lei Assessore ha ricordato questa nota che, come anche lei nell'intervento ha specificato, è stata inviata a tutte le regioni d'Italia. Quello che però volevo evidenziare in questa mia replica è che è vero che è stata diffusa e è stata inviata a tutte le regioni d'Italia, ma ci sono alcune regioni, penso alle Marche, penso alla Toscana e penso alla Liguria per citarne qualcuna, che è una soluzione rispetto alla problematica che sicuramente subiamo dal nazionale, l'hanno trovata. È di pochi giorni fa l'annuncio dell'Assessore marchigiano Carloni che annuncia proprio una grande vittoria per le Marche perché grazie alla sua volontà politica e alla sua determinazione i pescatori marchigiani sono tornati appunto a pescare sulle sponde del fiume Metauro e del Chienti, inaugurando quelli che sono i propri campionati provinciali della trota, abbattendo tra l'altro quello che è un problema fondamentale in questa questione, ovvero la burocrazia. E qui c'è l'estratto del resto del Carlino in cui si dice che le Marche hanno autorizzato l'immissione delle trote iridee nei propri fiumi, con un percorso concentrato con tutte le associazioni piscidorie della Regione. Situazione analoga per la Liguria, dove un consigliere di maggioranza chiede all'Assessore regionale Piana una soluzione per far pronta a quello che è la volontà del mondo istico e chiaramente di tutto il comparto economico che ne consegue. E anche in questo caso l'Assessore regionale risponde sì all'immissione di trote iridee e fario di ceppo atlantico nei corsi di acqua, chiaramente Liguri. Situazione analoga per la Toscana, non molto lontano da casa mia, un casentino. Quindi quello che mi viene spontaneo pensare, Assessore. Molte regioni trovano comunque una soluzione, che ripeto è sicuramente un problema che ci cade dall'alto, però una soluzione o in un modo o nell'altro, facendo anche fronte a quelle che sono le caratteristiche delle singole regioni, quantomeno si trova. Noi non credo che l'Umbria si meriti di restare al palo, sinceramente. Non ce lo meritiamo, come Umbria non ce lo meritano le associazioni e tutto il comparto ittico. Come Lega abbiamo più volte fatto delle proposte, perché chiaramente siamo qui per provare a risolvere un problema. Lo hanno fatto i miei colleghi precedentemente, chiedendo anche l'immissione di trote esteri, per esempio. Lo abbiamo fatto proprio in quest'Aula il 5 aprile scorso, chiedendo le emissioni di quelle che sono trote definite molto vicine al geneticamente puro. Trote che adesso si trovano nel centro etiogenico di Borbo Cerreto e che, non mi stanco a dire, sono a carico della regione e che lei, Assessore, sa benissimo che molto probabilmente andranno al macero. Tutto questo, Assessore, per dire che comunque sia serve sicuramente una soluzione. Una soluzione non possiamo aspettare che il problema ce lo risolvano dall'alto. Il problema dobbiamo comunque affrontarlo anche come regione. Detto questo, Assessore, a noi non interessa comunque come Lega fare la voce grossa in consulta o sminuendo il lavoro degli altri colleghi, Assessore. Noi siamo qui perché vogliamo trovare una risposta, una soluzione. Come Lega lo stiamo facendo in Consiglio regionale, lo hanno fatto i nostri parlamentari attraverso anche dei comunicati stampa in cui si ribadisce la posizione della Lega che, come ha detto l'Assessore Carloni delle Marche, tendo anche a ribadirlo qui in Consiglio regionale, la Lega è e resta dalla parte dei pescatori e del comparto adesso legato. Quindi concludo, mi auguro, Assessore, che si continui a lavorare in maniera molto dettagliata e soprattutto cercando di trovare una soluzione a un mondo ittico che se lo merita, che rappresenta la nostra tradizione, che rappresenta la nostra identità, senza disattendere quella che è stata una mozione approvata all'unanimità in quest'Aula. Grazie. Oggetto numero due, risponde sempre l'Assessore Morroni, intero dal Consigliere Bianconi. Prego, Consigliere. Grazie, grazie Presidente. Presidente, questo atto nasce dai tempi difficili che stiamo vivendo e tratta di energie rinnovabili, di uguaglianza, di sostenibilità ambientale, ma anche allo stesso tempo di tutela della bellezza. Come tutti pensano, l'Italia dipende al 73% da energia derivante dall'estero. Le famiglie oggi, in questo grande momento di difficoltà, devono stanziare circa uno stipendio l'anno per coprire l'incremento di costi energetici e di aumento di costi delle materie prime. Nel 2021, a febbraio, la crescita dei distacchi per mancato pagamento delle forniture energetiche in Italia è cresciuta del 36%. Di fronte a questo scenario assolutamente preoccupante e ad un prossimo autunno e inverno che sembra prospettarsi molto critico, ci sono molte domande che ci dobbiamo porre e una necessità profonda di fare chiarezza, per non perdere le occasioni che possono derivare dall'utilizzo intelligente dei fondi europei e dal PNRR e per dare in modo comunque anche alle famiglie e alle imprese che operano in aree che continueranno purtroppo ad essere soggetti a vincoli paesaggistici e ambientali che non sempre il buon atto emesso dal governo, il decreto legge numero 17, riuscirà a risolvere. Ancora oggi si naviga a vista, in molti comuni con cui ho avuto modo di confrontarmi con i tecnici agli uffici urbanistici e anche con alcuni tecnici all'interno delle regioni, le stesse imprese, i cittadini ancora non hanno uno scenario chiaro su cosa possono e non possono fare. Da qui quindi la necessità di fare chiarezza e di evitare anche una contrapposizione che sta nascendo fra coloro che diventano i difensori del bello, del paesaggio che fa parte dell'identità di questo Paese, che fa parte dei nostri valori e coloro che mettono al primo posto la necessità di fornire un supporto chiaro che possa ridimensionare i costi per le famiglie attraverso un utilizzo intelligente di energie rinnovabili e sostenibili. Allora dove sta la risposta che dobbiamo andare a cercare? Tutelare il bello, allo stesso tempo dare il supporto alle famiglie e fare in modo che non ci siano discriminazioni e quindi costruire delle compensazioni o delle soluzioni esterne che possono far sì che in quei luoghi dove ci sono vincoli ambientali o vincoli paesaggistici si possono comunque trovare delle risposte per far sì che quei cittadini possano domani accedere all'energia con gli stessi costi che hanno tutti gli altri. Questo da cui nasce questa mozione, da queste paure, dai rischi di blackout, di riduzioni, di contingentamenti di energie che ci potranno essere nel prossimo adunno inverno. Quindi da qui vado a rileggere l'interrogazione che pongo a lei e a questa giunta su un tema così caldo per il quale quindi sono a chiedere se come ha provveduto ad aggiornare la normativa regionale vigente in conseguenza della liberalizzazione e nell'installazione di pannelli fotovoltaici prevista dalla citata normativa statale, specificando quali misure intenderebbe eventualmente porre in essere per garantire un'uguaglianza di fatto dei cittadini che vivono in centri storici e in aree naturali protette, specificando in quanti centri storici o d'aree naturali questi divieti ancora permarrebbero nonostante il decreto che ho citato poco fa e chiarendo infine se intende introdurre deroghe per impianti a basso impatto visivo oppure se intende introdurre altre forme di compensazione economica per garantire uguaglianza tra tutti i cittadini e tutte le imprese nel poter accedere all'utilizzo di energie rinnovabili e sostenibili. Grazie Presidente, consigliere Bianconi. Anzitutto appare opportuno premettere che la conversione in legge del decreto da lei richiamato il numero 17 del marzo di quest'anno non ha concluso ancora il proprio iter e ciò naturalmente comporta che si potrà avere contezza dell'effettiva portata delle modifiche solamente una volta che l'iter sarà giunto al suo naturale completamento. Si rappresenta comunque che i centri storici di quella lettera 5,1 dell'articolo 136 del decreto legislativo 42 del 2004 sono qualificati quale aree di notevole interesse pubblico già individuata in che senso l'articolo 138 e 141 ibide. La notizia di stampa riportata sulla cui attendibilità permane nella premessa riportata non escluderebbe le procedure paesaggistiche per tali impianti. Si sottolinea che sussiste però per il combinato disposto di articoli 92 e 91 del regolamento regionale 2 del 2015 relativo all'applicazione della legge 1 del 2015 il divieto di installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici ricadenti nelle aree classificate quali insediamenti esistenti che rivestono valore storico e culturale, che corrispondono alle zone classificate precedentemente quale zona A dal DM 1444 del 68. Tali zone, pur se non perfettamente sovrapponibili, spesso coincidono con i centri storici di qui sopra. Il divieto di installazione quindi permane per le fattispecie sopraindicate. Da alcuni mesi sono in corso delle interlocuzioni con l'assessorato competente in materia di urbanistica al fine di dirimere la questione, il tutto tenendo conto del fatto che tali impianti sono comunque soggetti al procedimento autorizzatorio paesaggistico semplificato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2,1 al DPR 31 del 2017. Si specifica comunque che l'autoproduzione energetica per il soddisfacimento dei fabbisogni domestici, così come l'efficientamento energetico, ossia la riduzione degli sprechi, costituisce uno dei fondamenti dell'azione politica in termini energetici nella consapevolezza comunque che l'affrancamento naturalmente dalla dipendenza energetica italiana è un obiettivo di lungo termine. Detto questo, il tema che lei ha posto all'attenzione dell'Assemblea è un tema sicuramente pertinente e quindi parallelamente all'evoluzione e alla definizione del quadro normativo in materia io credo che una riflessione debba essere aperta con l'intento di trovare soluzioni che scongiurino il rischio di ineguaglianze e di difformità, di opportunità e di trattamento tra i cittadini a seconda del luogo dove vivono e dove risiedono. Credo che sia un tema aperto che dovremmo affrontare con equilibrio al di fuori di logiche emergenziali che credo non gioverebbero all'individuazione di soluzioni equilibrate ed efficaci ma mantenendo la barra dritta verso un impegno che deve essere un impegno di lungo periodo e quindi deve andare alla ricerca di soluzioni che pongano i cittadini in una condizione di pari opportunità. La ringrazio Assessore per la risposta, condivido il principio che le soluzioni emergenziali sono sempre pericolose e non sempre portano con sé un utilizzo dell'intelligenza e dell'opportunità delle risorse di cui possiamo disporre oggi. A tal riguardo quindi la invito prima possibile ad affrontare questo tema perché l'autunno e l'inverno prossimo che ci attende saranno molto complessi. Le famiglie potrebbero riuscire a trovare delle soluzioni per affrontare il prossimo autunno e inverno in maniera più serena proprio perché i rischi di impatto sul loro bilancio, specialmente con quelli che hanno dei redditi più bassi, sarà importante e prevederà dei tagli sociali, anche quello delle imprese che non possono operare nei centri, che hanno già ridotto le loro produzioni di beni e quindi anche gli orari di lavoro con un impatto sociale altrettanto importante. Mi permetto di fornire anche un contributo nel ragionamento laddove e molti comuni di questa regione hanno dei vincoli importanti nei centri storici, ci sono però dei terreni di proprietà comunale, mi auguro, e anche regionale al di fuori di questi centri storici. Allora chi non può operare e non mettere energie rinnovabili all'interno dei centri storici per tutelare la bellezza, che è un grande patrimonio, dovrebbe poter usufruire di questi spazi all'esterno che sono della comunità, quindi del comune o della stessa regione per poter risolvere il problema di questa disuguaglianza esistente. In chiave strategica una risposta puntuale da parte di questa regione credo che darebbe serenità e darebbe anche una prospettiva oggettiva sulla quale lavorare da subito, perché ripeto il prossimo autunno e inverno credo che saranno decisamente complessi.